Il calcio rimane poi nei fatti una questione di numeri e le statistiche per quanto non sempre attuali in ogni singola stagione dicono di un campionato di eccellenza del Montevarchi, attualmente senza avversarie. Non è solo il più se in classifica determinare il fatto apparente che in questa stagione la corsa sia in solitario fin da settembre ma anche il ritmo globale tenuto dalla compagine rosso-blu. Lo scorso anno a chiudere in testa il giro di Boa fu la Bucinese che in totale nelle 15 uscite prima della pausa natalizia aveva collezionato 28 punti. L'Aquila dopo 9 uscite a 23, già più 4 rispetto al parziale arancio-verde, squadra che poi giunse terza in campionato proprio alle spalle dei rosso-blu dopo altrettante uscite. Sotto i 30 punti, a parte il campionato 2 del 2012 tra forti Juventus e Fiesole Caldine, sempre hanno girato anche i vincitori. Un punteggio che a meno di sorprese nei prossimi 540 minuti dovrebbe essere ampiamente superato dai ragazzi allenati da Rigucci che già ad oggi hanno due gare di vantaggio rispetto al primo immediato inseguitore. È vero che il confronto con il Grassina è in programma al turno numero 14 l'11 dicembre, ma se fino ad allora il ritmo di oltre 2 punti e mezzo a partita sarà mantenuto, anche il peso specifico di quella gara rischia di essere piuttosto basso.